Envision TV, televisione e new media. La rendicontazione in Avis è stato il tema dell'ultimo appuntamento del ciclo Formazione 2018 curato dalla scuola di formazione Vito Tesei, Avis regionale Marche. Si è svolto presso l'hotel Horizon di Monte Granaro e come i precedenti incontri ha fatto registrare una nutrita partecipazione. Le realtà associative di volontariato, soprattutto quando, come nel caso dell'Avis, hanno una diffusione capillare su un vasto territorio, necessitano di un coordinamento centrale e di formazione continua. Solo così si potranno mantenere elevati standard organizzativi ed evitare dispersioni di risorse. Vanno in questa direzione le numerose attività svolte dalla scuola di formazione Vito Tesei, Avis regionale Marche. È stato veramente un anno eccezionale. La Commissione ha lavorato molto per poter individuare degli argomenti che potessero essere di interesse. La risposta è stata notevole. Siamo partiti con il trattare quello che sono i nuovi social, perché comunque quello che è l'obiettivo è attrarre nuovi giovani. Quindi come poter trovare delle alternative alle modalità tradizionali per fidelizzare e anche per acquisire nuovi donatori. Quindi siamo partiti con l'analisi dei nuovi media. Poi siamo andati sull'accoglienza, ma l'accoglienza fatta da una professionista che tratta di comunicazione, anche comunicazione sanitaria, che ha permesso quindi di dare alcune informazioni importanti su come relazionarsi con i giovani, perché i giovani non sono più come una volta. Quindi anche noi come Avis, nel momento in cui vogliamo andare a acquisire nuovi donatori nell'ambito dei giovani, dobbiamo anche cambiare il nostro modo di relazionarci. E poi siamo andati anche a parlare degli stili di vita salutari. Nell'ultimo corso che è stato molto interessante e anche ha raccolto molti successi. La nostra attività di volontariato è inquadrata in un sistema che non possiamo nemmeno sgarrare. Quindi qui è importante la formazione, prepararci, conoscere. Se non conosciamo le norme, non conosciamo quello che dobbiamo fare, diventa difficile farlo. Tutto questo per farci lavorare con tranquillità e metterci a sicuro e poter dedicare l'altro tempo poi tranquillo al volontariato vero, che è quello di promuovere la donazione, di cercare nuovi donatori, di organizzare le chiamate e le donazioni. Però per fare quello con tranquillità dobbiamo mesterci a sicuro anche degli aspetti fiscali, normativi e questo impegno di oggi è proprio per conoscerlo meglio e per metterci in condizioni di lavorare bene. Presidente, siamo vicini a fine anno, viene in automatico a una domanda fare una sorta di bilancio del 2018. Un anno che comunque è andato bene. Stiamo rispettando quelle che sono le aspettative e quello che era il programma donazionale concordato sia con la Regione che con l'Eccendo nazionale sangue. Siamo andati bene, anzi forse anche oltre le aspettative, perché abbiamo messo a disposizione oltre mille sacche ad altre Regioni, quindi abbiamo contribuito all'autosufficienza nazionale con più di quello che avevamo programmato. Questo non significa che non ci sono problemi, ma i problemi come ci arrivano li affrontiamo e cerchiamo di risolverli. Ha trattato il tema alle linee guida regionali per la rendicontazione della Convenzione Stato-Regioni Arnaldo Ludovici, tesoriere regionale Avis. Mentre l'intervento centrale è stato curato da Claudio Bianchini, dottore commercialista e revisore contabile, consulente Avis nazionale, che ha parlato delle novità nella rendicontazione previste dal Codice del Terzo Settore, delle agevolazioni fiscali e obblighi di rendicontazione e della rendicontazione ODIV, organizzazioni di volontariato, con l'introduzione del registro del Terzo Settore, spiegando che si tratta di un cambiamento epocale. Siamo di fronte a una svolta epocale che modificherà totalmente, non solo il Terzo Settore, ma anche tutta la rendicontazione delle aziende. Parlo della fatturazione elettronica e naturalmente del nuovo registro per gli enti del Terzo Settore che obbligherà tutti gli enti che si avvalgano di normativa fiscale agevolata o che vogliono o che hanno già preso delle donazioni o dei contributi pubblici ad avere finalmente un inquadramento giuridico specifico e un regime di pubblicità con il deposito di un rendiconto economico finanziario presso il registro degli enti del Terzo Settore. Quindi vorrà dire una massima trasparenza e finalmente una certa pulizia per quegli enti che non profit non sono. D'altra parte, se si spendono dei soldi da parte della pubblica amministrazione, è anche giusto che ci sia la possibilità di avere una rendicontazione. È un'occasione particolare perché vi è un regime generale di detassazione ma anche per gli enti del Terzo Settore che dovessero svolgere attività commerciale vi è un regime di carattere fiscale molto agevolato, forfettario che consente di pagare un'imposta tra virgolette sostitutiva tra il 7% e il 17%. Quindi vuol dire una fiscalità accettabile, molto bassa e la possibilità di destinare un'attività su base di volontariato su quei settori che normalmente lo Stato non riesce a coprire oppure che la società civile ha difficoltà ad eseguire perché non è organizzata. Con un'entrata in vigore che è partita nel 2018 e si esaurirà con il 31-12-2019. La realtà comunque, almeno in questo territorio, è legato soprattutto al numero di redonazioni che vengono fatte in aumento, nonostante gli avvenimenti del sisma che fino all'anno scorso hanno comunque dato delle loro conseguenze e soprattutto abbiamo anche un ottimo rapporto con il centro trasfusionale di riferimento con la dottoressa Siracusa, con la quale abbiamo immediatamente scambiato un ottimo rapporto e con la quale noi ci sentiamo costantemente attraverso incontri diretti, attraverso sms, attraverso soprattutto al rapporto anche con gli operatori sanitari, infermieri e medici. E tutto questo sicuramente giova alla sanità, giova al trasfusionale, ma giova soprattutto ancora a quel poco di volontariato che la legge in questo momento, a mio avviso, sta cercando di smembrare per ricondurlo in una situazione di tipo istituzionale. Quindi io mi auguro che al di là delle importanti novità che il terzo settore come legge ha individuato, non venga scomposta la volontarietà del dono. La rendicondazione, oltre che un obbligo di legge e di statuto, è uno dei principali strumenti informativi delle varie comunali e come essa può essere vista, giudicata e migliorata probabilmente anche l'attività delle varie comunali e delle varie sezioni locali Avis. Attraverso dei criteri omogenei, il corso oggi si occuperà di questo, avremo la possibilità di comparare i bilanci e parlare un'unica lingua. Questo consentirà di aggregare più comunali sotto il cappello del provinciale, quindi avere un quadro di lettura più chiaro e più omogeneo, eventualmente migliorare laddove possibile o prendere degli spunti laddove ci siano delle performance o dei risultati brillanti in capo a qualche comunale attraverso anche la lettura del bilancio. Una presenza storica, possiamo definirla così, quella dell'Avis nel suo territorio sindaco? Sì, 55 anni di presenza importante, una sezione che è cresciuta negli anni e è riuscita a coinvolgere in maniera sempre più ampia la cittadinanza locale. È una sezione di cui siamo orgogliosi, in quanto i vari presidenti che si sono succeduti e i soci sono riusciti davvero a non solo svolgere quello che è il loro mestiere, diciamo il lavoro di raccogliere appunto sangue, ma soprattutto a veicolare un messaggio che è un messaggio fortemente educativo sulla importanza della donazione, quindi un duplice ruolo di raccolta ma anche di formazione e di educazione della cittadinanza. Questo corso si pone a fine anno perché c'è stata una commissione che ha lavorato fatta da tutti i tesorieri provinciali della regione e dal tesoriere regionale per poter predisporre degli stampati, dei prospetti che possano essere di ausilio a tutte le Avis comunali che permette di avere una omogenizzazione della rendicontazione su tutto il territorio, sempre nell'ottica della trasparenza. Abbiamo finito il ciclo e stiamo lavorando per l'anno prossimo dove sicuramente la riforma avrà un ruolo molto importante nei nostri corsi, per cui cercheremo alcuni argomenti che magari abbiamo trattato di approfondirli e trattare anche nuove tematiche che possono essere sempre nell'ambito della capacità di relazionarsi con gli altri e di promuovere, oltre che ovviamente nell'ambito della riforma e delle nuove adempimenti che ci sono.